Meta, 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 meta è la parola della settimana ragazzi, sia sui mercati delle criptovalute ma anche sui mercati classici perché il grande Mark di Facebook ha cambiato nome alla sua capogruppo, azienda capogruppo, chiamandola Meta, un nome originale che non vi dico, ma a parte questo, giusto perché si impatronisce di questa parola, perché loro si dedicheranno al metaverso, quindi a tutto quello che riguarda la questione legata al metaverso, lo sviluppo di questa tecnologia è già da un po' che Facebook sta investendo sul metaverso, aveva fatto Oculus, vi ricordate gli occhialoni eccetera, quindi loro sono molto proiettati su questo segmento, se non che le cripto che sono già avanti ovviamente su questi settori sono esplose, letteralmente esplose ragazzi perché hanno fatto numeri da paura, le andiamo a vedere oggi quali sono le best coin, le migliori coin del settore meta da tenere sotto controllo in termini di capitalizzazione, andiamo a guardare le top capitalizzate, vi faccio vedere anche un po' che cosa è successo anche alle altre, quelle migliori piccoline ragazzi hanno numeri veramente incredibili, è un settore in espansione, è un settore che probabilmente sta iniziando a macinare, a entrare proprio nei settori reali, e quello che può succedere veramente potrebbe essere importante come innovazione, andiamo a vedere tutti i grafici, guardiamo supporti di esistenza per chi di voi c'è già dentro queste coin, per chi di voi deve entrare e vuole capire come fare, hanno i classici grafici ad ascensore, andiamo a fare tutti i nostri calcoli, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e adesso vi faccio vedere questo grafico qui, anzi questa tabella, che è quella di CoinMarketCap sul settore del metaverso, qui ci sono listate tutti i token e le cripto legate al settore metaverso, che riporta CoinMarketCap in ordine di capitalizzazione, quindi in ordine di MarketCap, la prima Axie Infinity, poi abbiamo Mana ragazzi, allora vi faccio solo guardare quello che è successo a Mana e a Sandbox, che sono comunque due criptovalute assolutamente grosse, non erano dei piccoli progetti, di Sandbox ne abbiamo parlato tantissimi anni fa, sono contento perché, tra l'altro l'abbiamo parlato, quello era all'inizio, anche se io non sono un videogiocatore, però è stato un gran successo questo progetto, complimenti a tutto il team. Allora, queste due criptovalute non sono piccole, quindi aver fatto questi tipi di rimbalzi ragazzi, questi app del 300 e passa per 100, e beh, vi assicuro che insomma è notevole, ma poi se andiamo giù ci sono, nei rialzi settimanali, anche delle cripto più piccole, che come vedete hanno fatto comunque sempre tutte, numeri da paura, oltre il 100%, insomma ragazzi, è anche vero che però qui iniziamo a scendere di capitalizzazione e si può parlare di piccole criptovalute, se non che poi andiamo proprio all'emigno, guardate qui che cosa è successo a queste piccoline, ovviamente il 760% in una settimana, sono numeri che veramente fanno spavento, questo si può riassumere solo ed esclusivamente in un motto, secondo me, finché la bacca va, lasciala andare, se siete sul mercato che tira e le vele sono spiegate, il vento vi tira in poppa, questi sono i numeri che fate, quando avviene appunto un interesse su un determinato settore, tutte quelle che sono le cripto in questione esplodono ragazzi con cifre veramente incredibili, guardate ancora i rendimenti, poi qui scendiamo ovviamente in quelli che hanno capitalizzazione praticamente inutilità a guardare, andiamo a guardare le prime 5 cripto e andiamo a capire che cosa è successo, in particolar modo a queste qui, e ci facciamo un po' il punto della situazione guardando i grafici come sempre ragazzi, allora io ho messo le mie cripto sui soliti, queste cripto sui soliti elenchi, andiamo a vedere subito la situazione, ah come sempre ragazzi io ci tengo a dirlo, intanto non sono così finanziamente lo sapete, ma non guardo il grafico contro il USD, li guardo contro Bitcoin perché ha più senso guardarle contro Bitcoin in quanto se hanno un trend negativo contro il re delle cripto, mi tengo il re delle cripto, è meno volatile, è più sicuro di rispetto a tutti gli altri token, e ovviamente ragazzi ha tutta una struttura di capitalizzazione, essendo il re che ci fa stare più tranquilli anche in termini di oscillazione, perciò andare a investire su altcoin, soprattutto di questo settore che sono estremamente volatili, va bene solo se hanno un bel trend contro Bitcoin, e quindi a quel punto io dico ok rischio qualcosa in più, vado a incrementare la mia volatilità, perché contro Bitcoin sono in terreno positivo, un po' come l'avevamo fatto l'anno scorso su Ethereum e le altre cripto come Solana, va bene, allora andiamo a vedere Axie Infinity, intanto per cercare di capire un po' che cosa è successo, Axie Infinity è quella che ha performato peggio di tutti, che la settimana ha fatto solo tra virgolette un 11%, che però è assolutamente in linea con quello che ha fatto Bitcoin, infatti se andiamo a guardare il grafico sul time frame settimanale contro Bitcoin, ci rendiamo conto che in effetti Axie Infinity non ha performato bene questa settimana contro Bitcoin, anzi è un mesetto e mezzo che sta facendo questa fase di riflessione contro Bitcoin, se non che poi allargando il grafico ci possiamo rendere conto insomma che arriva da uptrend enorme contro Bitcoin ragazzi, quindi ovviamente questa è una cripto che sicuramente se riprenderà questo trend che ha evidenziato appunto in queste prime fasi del suo grafico che abbiamo su Wobby per esempio, se continuerà con questa fase di trend potremmo avere ulteriori nuovi massimi, è anche vero che però poi andiamo incontro alla questione legata alla capitalizzazione, già la 24esima criptovaluta tra le 100% è sicuramente molto capitalizzata ragazzi, quindi anche qui bisogna sempre stare attenti a non farsi venire idee di target price infiniti, perché non è così, guardate sempre la total market cap che è fondamentale, perché ci dà una misura generale di quello che sono le possibilità ad esempio di un token, di competere anche rispetto magari alle top 5, top 10 delle criptovalute, quindi rapportate sempre le criptovalute al settore. Allora poi guardiamo subito Mana ragazzi, anche perché Decentraland ha fatto veramente i numeri, allora in questa fase qui questa cripto sembra stia disegnando un classico pattern di continuazione del trend, che è un super triangolone classico fatto così, quindi se dovesse rompere questo triangolo probabilmente nella parte alta di qui e poi successivamente breccare questo livello di resistenza, qui potrebbe innescarsi una nuova fase rialzista, quindi assolutamente Axie Infinity da tenere monitorata, da mettere nella watch list, perché in questo momento potrebbe essere anche opportuno fare magari un eventuale buy the dip, se sapete come si fa e soprattutto i rischi, mettendo uno stop loss magari sotto gli ultimi livelli e attendere magari un eventuale break di questa figura di inversione, quindi ottima anche questa fase di riposo, anche perché questa è la regina diciamo del settore. Andiamo a vedere Mana, Come vi dicevo Mana, guardate che cosa è successo, un boom assurdo ragazzi. Questo boom sicuramente viene fuori dalla questione legata ai famosi concerti che si vogliono sperimentare, quindi sperimentare i concerti sul metaverso, insomma ci sono anche grandi nomi interessati che dovrebbero iniziare a fare queste cose ragazzi, magari la prossima volta che Bitcoin non giunge dei targeti la canzone la canto sul metaverso, vabbè. Allora a parte questa, qui grafico settimanale contro Bitcoin, indica che questa settimana è stato breccato il massimo, anche del lasciato precedente, considerando che questo era il livello di break importante, quindi questa settimana è stato fatto un break rilevantissimo di questo livello di resistenza, quindi si va long. Cosa potrebbe succedere contro Bitcoin? Un classico pullback, quindi un'eventuale fase di respiro magari per un po', per poi magari riprendere questa struttura. Ora è sempre difficile andare a fare trading con questi tipi di grafici, perché ragazzi sono grafici assolutamente da scensore, vedete, una coin che ci fa il 159% nella giornata di ieri, è il 47% in quella precedente, è il 19% e il 18% nella precedente ancora, cioè in tre giorni va a stampare un livello di range di prezzo che è strabiliante, guardate qui, cioè parliamo di 351% in tre giorni, poi si parla di andare a fare trading, dà sempre l'idea che magari si è un po' fuori tempo, che il treno sia passato. Allora questa cosa è bene ragazzi, però bisogna stare molto attenti quando si fanno queste cose, perché ci sono due modi di ragionare, il segnale è sicuramente long sul tipo di coin, poi il fatto è che le cripto ragionano in maniera estremamente veloce, molto di più rispetto ai mercati classici, e questo ci porta proprio alla considerazione del fatto che bisogna essere molto veloci, quindi in termini pratici abbiamo un segnale long, in termini, scusate teorici abbiamo un segnale long, in termini pratici siamo veramente a prezzi molto alti, quindi entrare qui è giusto per la teoria, però da un certo punto di vista si rischia veramente tantissimo, e questo è ovvio, perché potremmo anche attendere un rientro eventualmente nelle medie, non è detto che lo faccia ragazzi, quindi si può andare a cercare una fase di attesa, oppure addirittura aspettare un ulteriore break di questo livello, 59-10 escluso 0, e entrare dopo, quindi attendere e aspettare che il mercato rifiati. Allora questo per quanto riguarda Mana, andiamo a vedere poi invece Sand, che secondo me ha un grafico più bello rispetto a quello di Mana, intanto c'è più storicità, questo livello di prezzo era un livello standard che avevo indicato in un video veramente tantissimo tempo fa, forse all'inizio dell'anno ragazzi, o a dicembre del 2020, molto bello vedere che poi tutto è andato secondo i classici numeri, anche qui vedete il breakout è sempre lo stesso, quindi breakout ai massimi storici, un classico, poi il pullback, vedete fatto all'interno della stessa, del giorno dopo, quindi nel stesso grafico a candele giornaliere, quindi breakout, pullback e via con il nuovo trend. Allora anche qui tutto da manuale per quanto riguarda l'analisi tecnica, molto bello, e anche in questo caso ragazzi, si può tranquillamente entrare già direttamente in posizione long, oppure attendere un eventuale magari ritracciamento e riavvicinamento sulle medie, che sono queste qui, per attendere magari che il mercato arrivata qui, però probabilmente non ci va ragazzi, soprattutto nell'arco non di qualche giorno, è questa la vera problematica di questi settori, quindi in questo momento chi è dentro, continuate a starci perché il trend non ha cambiato, aspettate magari un'eventuale inversione di trend su time frame più piccolini, comunque anche quello daily va bene, però vedete qui, non andate a prendere profitto su coin magari che stanno facendo un bel trend lineato, perché come si dice in gergo, lasciare correre i profitti è fondamentale, è una regola fondamentale perché altrimenti si esce troppo presto ragazzi, e a volte quando si è dal lato giusto del mercato, bisogna lasciare spazio al mercato di darci quello che ci deve dare, ok? Questa è la questione, lo so, sembra un po' strano, non è che sempre ci andate a beccare, però questa regola funziona alla grande. Allora quindi questo per quanto riguarda The Sand, molto bello il grafico, vi ripeto mi piace di più addirittura di quello di Mana. Ange che se andiamo a vedere, a livello settimanale non ha dato grandi soddisfazioni rispetto alle altre due, che insomma Mana e Sand sono stati incredibili, però anche questa criptovaluta ha fatto veramente bene, però vedete questa cripto è sotto i livelli di massimo, che sono più o meno questi, quindi ancora qui il famoso break, quello che abbiamo visto poco fa su Mana e su Sand, non c'è stato, quindi potrebbe avvenire a breve, anche questa da tenere sotto controllo, perché se continua questa fase, e soprattutto break a questo livello 57-85 circa, ovviamente siate sempre molto molto larghi sulle aree legate a questo tipo di criptovalute, che sono ipervolati, quindi non state lì al centesimo, va bene, anzi al Satoshi in questo caso. Allora questo break eventuale confermato almeno in daily, potrebbe innescare proprio un super pump, quindi io starei attento a queste criptovalute, ancora una volta se si va ad avvicinare a queste medie mobili e si configura qui all'interno, una fase di pullback, potrebbe essere un eventuale ingresso in deep, proprio nell'attesa di un'eventuale ripresa. Ovviamente come sempre ragazzi, non do così finanziari, non sono così finanziari, dovete essere trader professionisti e sapere quello che state facendo, perché se non usate poi lo stop loss, il mercato vi bastona proprio. Pesareo all'ultima, il Luvium, allora ve la faccio vedere, 700 milioni di market cap è bassina, quindi può fare veramente i numeri se ci sarà uno super interesse anche per questa criptovalute. Allora io questo qui l'ho visto, non so se è un errore, facciamo così, allora ILV, andiamola a vedere su Qcoin anche ragazzi, vedete, ok questo è contro Tether, quindi insomma forse è meglio vederla qui, perché purtroppo Quesla contro BTC sembra avere un errore di dati, perché qui mi sembra palesemente che ci sia stato un errore di dati. Questi errori vengono spesso, avvengono spesso soprattutto sui mercati sottili, si dice così, quindi sulle criptovalute sottili, molti di voi magari dice che è successo, guardatevi, quando guardate i grafici di TradingView, ricordatevi sempre che può esserci un flusso dati errato in questi tipi di mercati, perché sono piccolini, quindi quando arriva un dato sbagliato, poi succede questo swipe, oppure semplicemente l'ha fatto solo un exchange, e noi altri, perché c'era un buco nell'order book, quindi non sono dati veri, quindi vanno saputi interpretare queste cose, ok? È un po' complesso, però allora, abbandoniamo la questione della Shadow qui, che ipotizziamo non ci sia, guardate che cosa è questo grafico ragazzi, guardate che grafico ha disegnato, quindi sono circa il 61% sopra Bitcoin da ottobre, quindi in tutto il mese, quindi ha fatto tutto il rialzo di Bitcoin, più il 61%, ma soprattutto ragazzi, che tipo di grafico? Sembra una linea, anzi ve la metto proprio, guardate, è una linea, è una linea disegnata, quindi un rialzo sembra anche programmato, va bene, allora, contro Bitcoin ancora una volta, qui c'è stato il superamento di questo livello, che non sono lasciato, come sempre sapete, io non le guardo più di tanto, questo livello, break, pullback, classico, quello che vi ho già fatto vedere, poi di nuovo ripresa del trend, è innescato, allora, qui trend long, non c'è nessun segnale di inversione, la crypto potrebbe continuare a salire, attenzione, perché questa è estremamente volatile, anche in base al fatto che ha una market cap, molto più bassa delle altre, però è anche vero che potrebbe magari, salire di più, proprio per questo motivo, come sempre, ancora una volta, quando ci sono questo tipo di atteggiamenti, o entrate e vedete se il trend continua, ma se il trend non continua, bisogna poi andare a fare un eventuale pull, sull'avvicinamento alle medie mobili, quindi ricordatevi sempre, quando i grafici si ritornano ad avvicinare alle medie mobili, secondo me, anche nel caso di Lumium, è molto importante, andare a controllare, poi quello che è la questione legata, agli sviluppi del progetto, perché più le cripto sono piccole, più il progetto ha molto più rilevanza, va bene ragazzi, allora queste sono le cinque top del metaverso, quelle con la capitalizzazione più alta, cosa ne pensate voi? Siete su Mana, siete su The Sand, avete fatto questi grandi boom boom, metaverso sì, metaverso no, da domani mi faccio un avatar, e parliamo solo via avatar, bisogna vedere poi un po' anche come verrà recepito, questo tipo di innovazione dal mondo, ciao a tutti, noi ci vediamo nel prossimo video.